Sono tornati in presidio davanti la sede della regione Basilicata Potenza gli agricoltori lucani a bordo dei loro trattori. È trascorso circa un mese dalla prima grande immobilitazione che ne aveva portato i centinaia ad occupare il parcheggio antistante e la sede dell'ente, restando anche durante la notte. Da allora alcuni sviluppi sono stati registrati, in considerazione sia di una doppia riunione del tavolo di crisi sull'agricoltura, incontri svolti prima con l'assessore Galella e poi con il governatore Bardi, che di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, convocata ad hoc avente d'oggetto esclusivamente le richieste degli operatori del comparto. L'atto deliberato, approvato ma non ancora reso esecutivo, ha previsto alcune soluzioni relative sia al contrasto dell'incontrollato proliferare della fauna selvatica che misure per calmierare i costi del carburante agricolo. Soluzioni reputate inconsistenti e assolutamente insufficienti dagli agricoltori lucani, in proporzione sia al grado di criticità dei danni arrecati dai cinghiali che dall'aggravio economico sulle aziende. E la politica, che deve trovare le soluzioni migliori programmando interventi e misure mirate a soddisfare le nostre richieste, hanno spiegato i manifestanti, tra queste, dei sussidi per poter recintare i terreni, limitando così l'accesso della fauna selvatica. Il rischio per gli agricoltori è quello che, con l'avvento delle elezioni regionali e il conseguente periodo di amministrazione ordinaria dell'ente, che non concede la possibilità di poter assumere atti che prevedano stanziamenti di alcun tipo ad eccezione dei fondi necessari per l'ordinaria amministrazione, si debba attendere l'insediamento della futura giunta regionale, un dilatarsi dei tempi che potrebbe essere fatale per molte aziende. Ormai siamo in primavera, hanno spiegato in una nota i manifestanti, e non possiamo pensare di arrivare al prossimo autunno con le solite promesse che contribuiranno a far morire tante aziende agricole a causa degli eccessivi costi di produzione da un lato, del prezzo dei prodotti agricoli che crolla quotidianamente, e il taglio drastico della PAC, giunto almeno 48% dall'altro, oltre che gli esigui risarcimenti per i danni causati dai cinghiali.